Un punto triage dove farsi controllare in caso di sintomi da coronavirus a Montecchio alla Casa della Salute. E poi ancora supporto psicologico e sospensione dei tributi locali per almeno sei mesi. Sono queste alcune delle necessità messe in evidenza dal gruppo consigliare di centrodestra a Vallefoglia, che ora chiede anche al sindaco Palmi Rucchielli maggiore chiarezza e informazione, come ha evidenziato la consigliera Carla Nicolini. Dagli ultimi dati ufficiali del 20 marzo, Vallefoglia è per numero di positivi il terzo comune in provincia e il quarto in regione, mentre per percentuale di contagiati ogni 1000 abitanti è il terzo in provincia e settimo in regione. Quindi ci rimane più che scontato chiedere perché la terza città della provincia ha lasciato la propria popolazione con evidenti lacune informative. Vista l'esigenza della popolazione di avere un sostegno informativo urgente, è bene che chi di dovere dia risposte al momento compatibili con le disposizioni in atto. In particolare, oltre a ribadire le limitazioni previste dal decreto governativo, un'amministrazione comunale dovrebbe assolvere pienamente il proprio compito con comunicati precisi su dove rivolgersi in caso di necessità per le esigenze primarie. Sarebbe stato utile per i cittadini di Vallefoglia in questi giorni anche avere a disposizione un servizio telefonico di assistenza psicologica per le persone. Sarebbe curioso sapere se l'assessore medico alla sanità e ai servizi sociali come si sia attivato a disposizione dei cittadini. Sarebbe utile prestare attenzione a un post Facebook scritto dal medico di medicina generale Vittorio Gamba, medico base a Vallefoglia, dove sulle ultime righe di questo post scrive che se fosse per lui realizzerebbe un punto triage a Vallefoglia. E ci sarebbe, aggiungiamo noi, anche la struttura adatta per cui usufruirne, che è la casa della salute di Montecchio. E' anche ora di iniziare a concretizzare su cosa succederà passato il coronavirus perché avremo tante belle palestre, un bel teatro, un bel municipio nuovo. Tutte queste belle strutture sicuramente non serviranno a risollevare il nostro tessuto socio-economico che sarà ridotto ai minimi termini. Abbiamo presentato, ed è stata protocollata in data 13 marzo, un'interrogazione per la sospensione dei tributi locali per almeno sei mesi, non abbiamo ancora avuto risposta. E' vero, come da statuto, ci sono 30 giorni per dare una risposta durante il Consiglio Comunale, ma visto le restrizioni sempre più aspre degli ultimi decreti, sarà difficile che entro i 30 giorni si riesca a convocare un Consiglio Comunale. Ci vuole una risposta, e la risposta deve essere immediata, ma non tanto a noi come gruppo consigliare Centrodestra per Vallefoglia. La risposta va data a tutte le aziende e a tutte le famiglie di Vallefoglia.